Rapatoni, qual è la situazione in Abruzzo e anche nel Pescarese per quanto riguarda le case? Troppe case vuote e troppe persone senza casa? Sì, noi continuiamo con questa iniziativa lanciata da anni, con ottobre come mese e sfratti zero, per attirare l'attenzione della politica e dei mezzi di informazione sulla tematica della precarietà abitativa. Perché noi anni fa abbiamo lanciato uno slogan, perdi il lavoro, perdi la casa, perché c'è un'interconnessione fra la precarietà lavorativa e la precarietà abitativa con tutto quel che comporta sulla vita di tutti i giorni. La situazione in Abruzzo continua in maniera molto grave, anche se c'è stato su Pescara un leggero miglioramento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era stato un dato drammatico che aveva fatto balzare agli oneri della cronaca Pescara con una maglia nera italiana. Quest'anno c'è stato un rimbalzo tecnico, ma il dato rimane comunque negativo con Pescara, che comunque in termini di valore assoluti ha il più alto numero sia di sentenze emesse che di sfratti eseguiti. E con il 90% di questi provvedimenti di sfratti che sono stati emessi, che sono per morosità incolpevole, cioè di persone che non è che non vogliono pagare, ma semplicemente per le condizioni lavorative si trovano nell'impossibilità di poter pagare regolarmente il canone sociale. Abbiamo scoperto che nella Cassa Depositi e Prestiti ci sono fondi non utilizzati, fondi ex Gescal, pari a 970 milioni di euro che erano destinati ad abitazioni sociali. Noi chiediamo l'immediato sblocco di quelle somme per la finalità a cui erano stati destinati. Oltre al fatto che rilanciamo quelle che sono le nostre proposte di sempre, quella di favorire le cooperative di autorecupero degli assegnatari per tutte quelle case ATER che al momento sono vuote in quanto non possono essere assegnate perché non agibili. Chiediamo tutti gli strumenti fiscali volte a favorire che non rimangano tutta una serie di appartamenti vuoti e chiediamo per sbloccare pure una serie di problematiche di liquidità dei costruttori l'acquisto a prezzo di costi di tutte le abitazioni vendute, che ce ne sono tante, di grossi costruttori, ma appunto a prezzo di costo e non di valore commerciale. Questo consentirebbe ai costruttori di avere una certa liquidità per le loro sofferenze bancarie e alla collettività di avere immobili da destinare a utilità sociale, nuovi, quindi con tutti i parametri che ci sono adesso e non quindi case vecchie, da poter utilizzare in questo modo, oltre che una mappatura che abbiamo più volte scritto alla prefettura di tutto quello che è il demanio civile e militare inutilizzato da riconvertire a finalità sociali.